La nazionale azzurra di pallavolo, allenata da Paolo Berruto, approda alla seconda fase dei mondiali in svolgimento in Polonia. Il bilancio della prima fase non è stato incoraggiante. Una vittoria Francia-KO per 3-2 al tie-break e tre sconfitte. Le ultime due contro il Porto Rico e ieri 3-1 dagli Stati Uniti. Da mercoledì i match contro la Serbia, Polonia giovedì, Argentina ed Australia sabato e domenica prossima.